Gli occhi più belli della musica italiana, una carriera meravigliosa, è con noi questa sera, Dino! È vero! È vero! Non saprei! È vero! Gli occhi più belli della musica, questo colore così intenso... Una volta erano i capelli più belli della musica, adesso invece... No, io vedo un occhio veramente molto... con un colore molto particolare, riusciamo Morelli magari a fare un primo piano su questi occhi? Occhi che raccontano tanti anni di carriera, Dino, eh? Una bella carriera! 51, quest'anno sono 51! Quindi abbiamo superato le nozze d'oro con la musica, complimenti, eh? Perché tu hai iniziato giovanissimo! Giovanni, avevo 15 anni, 15 anni e mezzo! È scoperto da... Da Teddy Reno! Da Teddy Reno! Partecipai alla festa dei disconosciuti nel 1900, eh? Quello lì! Vabbè, non avevo ancora 16 anni, dunque posso anche dirlo, nel 63! Ma come ti è venuta questa passione per la musica? Io cantavo all'asilo! E a casa sono stati contenti? Quando andavo all'asilo io, c'era una mia maestra che aveva un organo a pedale, che mentre suonava doveva fare tum tum così per pompare l'aria per far suonare l'aria! Viva la tecnologia! Beh, insomma, veramente... Io cantavo quelle canzoni di allora, non so, sono tutte belle, le mamme del mondo, eccetera... Poi da lì è diventata... Da lì ho sempre cantato, poi... Un giorno a una festa dell'unità in una piazza di Verona, dei miei amici mi dissero vai su a cantare, io andai su, cantai la pera matura, mi ricordo ancora... No, una canzone di... come si chiama? Pino Donaggio! E quando scesi dal palco c'era un capo orchestra di un gruppo di Verona e mi dissero a noi manca un cantante perché non vieni a cantare con noi e da lì è incominciato il tutto. Poi ci siamo presentati al teatro a Verona perché venne Teddy Reno con Rita Pavone per cercare appunto nuovi cantanti. E poi da lì il resto è storia, poi Sanremo, poi tante tournée in Italia, all'estero, quindi veramente una bella carriera, un bel percorso musicale e professionale. Senti, ma com'è la tua immagine? La tua immagine, insomma, è bella. No, la tua, la tua, la tua immagine. Perché faccio questa domanda? Ho preso in prestito il titolo della canzone che poi vi ascolterai. Ho capito, ho capito. Com'è questa immagine? La mia immagine attuale? L'immagine in generale? L'immagine può piacere o non piacere, è un fatto soggettivo. Può piacere, anzi piace come, soprattutto la canzone che andremo ad ascoltare. Dino! Ok, andiamo.